Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo su Amnesia The Dark Descent Ragazzi oddio, allora ragazzi noi faremo una custom map, cioè una custom story, non una custom map Perché map è, la map è map, ma story 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 story, map è map Quindi, se l'ho fatto ci sarà un cazzo di motivo perché l'ho fatto Ok ragazzi, partiamo con la storia principale So già che mi carrierò in mano Ma è una mia scelta Allora Dai 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 Sono caico, sono caico, sono fottutamente Tanto qua si vuole di cena Lo dai tranquillo eh Sì vabbè l'omba che mi segue nel senso pedofilo di me Madonna Il mio nome è Daniel, io vivo in Londra Prima o poi ti vengo a trovare, prima o poi ti vengo a trovare, prima o poi, quando capiterà Stringi Fa gg si può muovere Ma è bello che dice Eh, eh Sono Daniel E la peppina Sa succeschi Regà Che è successo? Sono ancora vivo Ok siamo vivi Siamo vivi, questo è l'importante Ma alzati tranquillo eh Ma tranquillo eh, con calma Non c'è fretta No, no, siamo ancora sdraiati tanto Quanti minuti vanno? Ok Ah, ok ci si può muovere Eh sì, vabbè Ti grazie Allora, innanzitutto I suggerimenti li togliamo tutti Ok Ok, permesso Raga, c'è qualcuno Ok, c'è solo un cosino Raccotto scatto la contenente, l'esca e l'acciaio Eh Ok GG È crollata la chiamata Sì, beh, logico Mentre sto registrando Logico cade la chiamata Logico Vabbè Eh, non so se avete visto Però non credo proprio Ok Eh, andiamo nel cram Mamma mia che tappeto Averlo a casa E la peppina Stempe Sì, no No, tranquillo, eh Accanisciati Proprio Eh, la miseria Ok Il colpo di vento ha fatto aprire la porta Ma niente di grave Siamo ancora sani Anche se la perderò tra poco Io lo so Oh Permesso Salve Buongiorno Come il cazzo ha fatto aprire la porta Se non ci sono finestre Paranormal porta Eh Oh 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 Ok Ops Scusi Non volevo spaccarla Ma volevo spaccarla Scusi l'ho fatto apposta What? Questo? Pava il tiro da tre Il tiro da tre Puttana L'ho ripresa al volo Il tiro da tre Si fa un tumor in 10 miliardi di pezzi L'ho visto Ok Basta perdere il tempo Basta perdere il tempo Il tempo è prezioso Se non c'è il prezioso Se non c'è il tempo Cacchio che ho detto non lo so La scopa di Harry Potter L'abbiamo fottuta ragazzi Abbiamo trovato Harry Potter Ok Prendiamo il lacciarino Prendilo Quando vuoi tranquillo Tranquillo Ok Come cazzo ho fatto Oddio L'ho messo in un angolo Come cazzo ho fatto Ok Dettagli Dettagli assurdi Dettagli assurdi Oddio Ok Dettagli Allora A parte i dettagli Sono dettagli Nessuno deve spuntare dall'angolo No perché è classico Uè 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 E no eh Uè l'app Lei signore mi deve dire qualcosa No visto che mi guarda in questa Aria molto intelligente Non aveva niente da dirmi Ok Ok andiamo avanti Tranquilli No tranquilli eh Ma tanto Tanto mi è un corridoio Fatta zigzag Tanto per farci Uè 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 Smetti di alcaniciarti giù Ma do Allora Ci sei Sei a posto Ok Questo Minchia C'è qualcosa No Qui Un'altra scoppa Questa è quella di Ron Ragazzi questa è quella di Ron Buongiorno Lei mi segue Ora non mi seguirà più C'è qualcos'altro Niente Non c'è niente Perfetto Andiamo fuori Devo calma Tranquillo eh Tranquillo Tranquillo Ok qui c'è un'altra porta Mi sta andando a palla alla vista Ok che No la sanità mentale La sanità mentale Ok poi il tornado di aria Poi me l'ho spiegata Qualcuno ha scorreggiato Chi ha Ma Basta Sbatte tipo troppo Qualcuno vuole una camicia Bella stirata Basta fare lo stupido Basta 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 Scendiamo le scale Tipo scivoliamo Brutalmente Colpo di vento Ah ok L'altra parte del castello Vecchi archivi La bocca durava Una fraganza di rosa Delizie turche pensò Proprio come quelle del consolato Dei costanti Tantinopoli Che cazzo c'entra Non ci chiediamo niente Ok il vento è arrivato da qua Non si sa da dove Ma è arrivato Perdona che corridoio Ok aspetta No Sanità mentale Sanità mentale Sanità mentale Ok parte Porte che si rapono Completamente a caso C'è qualcosa Vado a questo cacchio di castello No perché mi sto Mi state mettendo ansia E' la peppina No raga Non ci siamo capiti Ci siamo capiti Dovete Anna Anna Madonna Il nostro personaggio magico Può far sparire le cose Solo così GG basta 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 Proprio pasta Pasta Busta Busta Bene Dopo questa cosa C'è un libro Che noi ci portiamo dietro Perché fa figo Torte Otte Regalo Io non voglio avere niente che fa Wee 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 State bu State bu Wee Oh Calmi Possiamo stare calmi due secondi Mi state mettendo Un'ansia Addosso Madonna Stiamo tutti calmi Per favore Perché io Qui c'è un Un baule Lol Chiudiamo Perché se no Zelda si incazza Non so perché l'ho detto Ah GG Adesso abbiamo La lanterna Ok Madonna che buio L'ho messo Non c'è nessuno GG Non c'è nessuno GG GG Non voglio essere scortese Ma voglio chiudere la porta Peh Qui non c'è una cipalippa Ma devo seguire sta roba qua Io sto andando completamente a caso Poi prendo questo 19 agosto 1839 Non fai freddo Daniel Dio Il cazzo Che leggo Non voglio mettermi Asso solo per leggere Solo per leggere Delle cose che non hanno Assolutamente senso Tira giù Pensavo che si apriva l'altra Tanto meglio Meno strada Sala d'ingresso La porta sbatté dietro di lui E sapeva che non avrebbe più rivisto Il vecchio sardo A Berkeley Square Un'altra anima solitaria All'onda Sembrava far leggere Il classico youtuber Lachim Per capire qualcosa Cosa della storia Che bello Bello leggere le cose E inventarsi Quando non si riesce più a leggere La pepina Stabu Non girarti mai più di scatto Sì Sei in raffineria Vero no Non credo di dover È unito al Minchia Non è la chiamata Refugio La mia camera È la più preziosa D'anni Sì È ben oltre La raffineria In effetti Si trova al di sotto Della prima pietra Di Bren Nain Ding Ding Cazzo Un attimo di panicaggio Chiudi Girati bene E corri 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 Oh Un altro paul Ok Corri 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 Ok Corri 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 Apri Ok 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 Torniamo indietro Torniamo indietro Va bene Ho già capito Torniamo indietro Torniamo indietro No Ok Come si può Ah ok GG Ok Andiamo giù Andiamo Credo di aver capito Che bisogna andare Alla raffineria Che assolutamente Non so dove Ma penso che sia giù Questo è il laboratorio Va bene Andiamo un attimo Nel laboratorio Un giro veloce Proprio Viaggiare verso Dove Significava Attraversare Canterbury Lol Si assicura Si assicura di fare una vista Per evitare il senso di colpa Con le gambe All'abbandono Della Della vista Non leggo più ragazzi Leggete voi Modonna E' un mondo nervoso Quando mi fanno leggere qua E la pepe Ok Giusto perché Qualcuno ha respirato Dall'altra parte Della parete Io prendo Mia coraccia Prendo sta roba E torno indietro E torno indietro E torno indietro E la pepina Quante mosche Ho detto Non paracci mai più Deve esserci più Cur Prite Deve Ti siede Di merda Cos'è sta roba Un giorno E tornerò Se no Non leggo più Perché va a fa Che cazzo Ah Non è che sono I punti salvati E la pepina E la madonna GG Ok Namo Ok Namose Namose Oei Pignu Eh no Stai di buono No vabbè A parte che c'è Il grato Quindi c'è di cazzo Ok Oddio cos'è sta roba Vabbè Non va Ok Note Spostamento chimico Ma mancate Posterò in cantina Dovevo andare nella cantina Forse Possiamo già No siamo già Nella cantina Cazzo dico Sì scemo anch'io Oh Che baule Carino Levati dalle palle Ok Qui ci sono altre puerte Nope Ok Namose 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 Vabbè Ma io anche direi di stoppare Vabbè leggiamo Altri bambini Non avevano conto Il suonava Un ritmo costantemente In crescita Che Sto facendo davvero Pensare ragazzi No A coprire la sua vittima Con una pietra Suoca Ce l'ho fatta Mamma mia We are the champion Ti ho già detto Di non provarci mai più Mi ha fatto ponere un colpo Cassi Io stoppo Basta C'ho un'ansia addosso Che non finisce più Quindi ragazzi Volete fare voi il finale Se vi è piaci Se vi Se Tranquillo Con calma Se il video vi è piaciuto Come è stato Lasciate un mi piace Un commento E un'iscrizione E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi